Bart e Verona stanno per avere una figlia e si trovano di fronte ad un interrogativo dove vicino a chi dovranno stabilirsi per crescere la loro bambina partono allora per un lungo viaggio che li porterà a fare visita a parenti ed amici lungo le strade del Nord America, a Phoenix dove trascorrono una giornata al cinodromo con una stramba ex collega di lei, a Tuxon insieme alla bella sorella di Verona, Grace a Madison da un'amica di Bart e dal suo compagno dai quali la coppia fugge velocemente a Montreal dove ricevono un'accoglienza calorosa da una coppia di vecchi amici ma anche se la casa è piena di bambini e allegria appaiono presto chiare le difficoltà a tenere in piedi il rapporto e la famiglia infine dopo una tappa a Miami per un'emergenza i due capiscono che la scelta del posto dove mettere su casa dipenderà solo da loro il primo film è tratto da una sceneggiatura originale dopo American Beauty American Life del premio Oscar Sam Mendes è una solida commedia brillante ammantata di malinconia dai dialoghi irresistibili dalle battute fulminanti qualche attinenza col precedente Revolutionary Road con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet anche qui una coppia che vuole fuggire e ritrovarsi questa volta però l'esito sarà diverso